Anche quest'anno il bonus riqualificazione viene proposto nonostante i rischi anche per i bilanci comunali di non avere risorse sufficienti. Lo sforzo viene questa volta dalla pubblica amministrazione di Romano Dezzelino. Proponiamo il bonus riqualificazione in un formato leggermente ridotto e che ci permetterà comunque di sostenere le imprese, soprattutto quelle che hanno sede nel territorio del comune di Romano Dezzelino, e i privati che hanno fatto dal 1 gennaio 2020 interventi di riqualificazione energetica o altri tipi di interventi proposti nel bando. L'incentivo è pari al 50% della spesa sostenuta, potrà arrivare al 60% se l'impresa esecutrice dei lavori è a sede legale nel comune di Romano Dezzelino. Il bando si riferisce in particolare a tutte quelle che sono le attività di riqualificazione energetica, ma anche di riqualificazione e di decoro urbano, quali l'arretramento di cancelli, piuttosto che la sistemazione di cancellate e recinzioni, ma soprattutto quello che è anche il mondo del risparmio energetico, per cui pompe di calore, caldaie e soprattutto impianti che possono permetterci di dare una qualificazione e un aspetto energetico migliore alla nostra casa.